Ciao e benvenuto su Top Tech Italia. In questo video ti presenterò la nostra top 4 dei migliori spaccalegna del 2021. Iniziamo! Al quarto posto abbiamo selezionato lo spaccalegna ALKOLSH520-5. Stai cercando uno spaccalegna comodo, potente ed economico? Questo modello è sicuramente quello che ti serve. Infatti grazie ai suoi solidi piedi questo dispositivo si trova ad una buona altezza e permette all'utente di lavorare in modo confortevole. Questo ti permetterà di non avere problemi alla schiena a lungo andare. Ora parliamo delle caratteristiche. È in grado di tagliare tronchi con un diametro fino a 52 cm e adatto sia ad un uso professionale che familiare. Inoltre è dotato di un potente motore da 2200 watt ed è in grado di dare 5 tonnellate di forza al taglio. Come al solito su Top Tech se vuoi avere maggiori dettagli sulle caratteristiche tecniche e ottenere i maggiori prezzi che abbiamo trovato per te su internet, vai alla descrizione di questo video. Lì troverai tutti i link a portata di mano. Al terzo posto abbiamo selezionato lo spaccalegna idraulico Ebert 7T. Lo spaccalegna Ebert 7T vi farà risparmiare tempo ed energia quando spaccate i vostri tronchi. Infatti con un potente motore da 2200 watt vi promette un lavoro veloce ed efficace. Ebert è adatto a spaccare pezzi di tronchi con una lunghezza massima di 520 cm per un diametro fino a 250 mm. Questo spaccalegna si distingue dai suoi simili per il suo design solido e durevole e per la sua potenza di taglio. Per quanto riguarda la potenza di taglio è di 7 tonnellate. Questo permette di spaccare anche i pezzi più difficili in tempo record. Un altro punto forte di questo modello è la sua sicurezza. È dotato di una copertura e di un comando a due mani che garantiscono il rispetto della sicurezza. Quindi difficilmente dovrete preoccuparvi di incidenti frequenti durante l'uso scorretto. Al secondo posto abbiamo selezionato lo spaccalegna elettrico Hydraulic Forest Master 7T. Al secondo posto della nostra top 4 abbiamo deciso per un modello del marchio Forest Master. Dimostra la sua efficienza con questo modello ultraforto ed efficiente in grado di dividere i tronchi con un diametro fino a 50 cm. È possibile anche regolare la lunghezza del ciclo di questo spaccalegna in base al tronco da tagliare. Questa caratteristica permette di lavorare in modo molto più efficiente. Questa Forest Master si distingue per il suo sistema Duo Cut. Quando è attivato l'efficienza della macchina è raddoppiata. Grazie ai materiali di costruzione di alta qualità questo dispositivo ha un peso di 47 kg. E ti ricordo che per ottenere i maggiori sconti che abbiamo trovato per te su internet clicca sui link in descrizione. Lì troverai tutto quello che ti serve. Al primo posto abbiamo selezionato lo spaccalegna Forest Masters FM 10T. Alla domanda quale sia il miglior spaccalegna del 2021 possiamo dopo i test effettuati affermare che si tratta dello spaccalegna Forest Masters FM 10T. Il motivo non solo è forte e funziona bene ma è anche molto facile da usare. Presenta un peso ragionistico, di 35 kg e ha delle ruote che ne facilitano lo spostamento. Inoltre le sue lame sono molto affilate e facilitano la spaccatura dei tronchi. Come il modello precedente anche questo è dotato della tecnologia Duo Cut che permette di raddoppiare l'efficienza di spaccatura. In questo modo si raggiunge una potenza di spaccatura massimo di 10 tonnellate. Anche i tronchi più duri e ostici non possono resistere. Apprezziamo anche il suo telaio in acciaio che garantisce da un lato una buona stabilità dall'altro una buona longevità. Ora quello che vi invito a fare è molto semplice. Andate alla descrizione del video, cliccate sui link per ottenere tutte le specifiche più complete e trovare i migliori sconti che abbiamo trovato per voi su internet. Se questo video ti ha aiutato a decidere metti un like, iscriviti al canale Top Tech Italia, attiva la campanella per restare sempre aggiornato sui nostri prossimi video. Alla prossima, ciao!